La direzione regionale del partito si occuperà della questione nell'assemblea prevista per venerdì della prossima settimana. In un periodo nel quale sembrava essere tornato il sereno dopo le spaccature sulle commissioni parlamentari a Lars, si apre però un nuovo caso ed è quello del senatore dell'EPD Beppe Lumia. Lumia ha ottenuto la seconda deroga per candidarsi alle prossime politiche nonostante abbia superato il limite di mandati parlamentari previsto dallo statuto del partito. condizione indispensabile però resta la partecipazione alle primarie del 30 dicembre ma alle consultazioni per decidere i candidati in Parlamento Lumia non si presenterà. È infatti deciso di correre non con la lista dei democratici ma con quella del megafono che fa riferimento al presidente della regione Crocetta. Dal partito democratico è arrivato però l'altolà attraverso il segretario regionale Lupo. Chi è dirigente non può candidarsi in liste concorrenti se vuole essere candidato deve fare le primarie come hanno fatto altri parlamentari uscenti. Il segretario poi avvisa la lista di Crocetta non può diventare la sciaruppa di salvataggio per chi non vuol fare le primarie. Il PD regionale invita poi il presidente Crocetta ad applicare le stesse regole seguite per le elezioni in Sicilia quando fu deciso che nella lista del governatore non potevano candidarsi dirigenti o deputati regionali uscenti del PD. Uno dei candidati alle primarie intanto Sergio D'Antoni ha chiesto con una lettera formale vertici nazionali del partito di fare chiarezza sulla posizione di Lumia, una richiesta che arriva anche da altri dirigenti del Partito Democratico.